Ogni giorno scopri qualcosa di nuovo, un problema o un'opportunità che ti porta verso un risultato diverso. L'aspetto magico è il processo. Avevamo grandi idee quando abbiamo iniziato, ma per descrivere un gruppo che realizza qualcosa in cui crede, uso sempre l'esempio di quando ero bambino. C'era un signore che abitava alla fine della mia strada. Aveva circa 80 anni e aveva un aspetto spaventoso, ma poi lo conobbi meglio. Un giorno mi disse, vieni nel mio garage, voglio mostrarti una cosa, e tirò fuori un vecchio congegno polveroso. Era un motore su cui aveva legato una lattina di caffè con uno spago. Vieni con me, disse. Andiamo fuori a prendere dei sassi, dei normalissimi sassi. Li mettemmo nella lattina con un po' di liquido e una manciata di polvere abrasiva. Chiudemmo la lattina. Lui accese il motore e mi disse di tornare il giorno dopo. La lattina faceva un gran chiasso. Tornai il giorno dopo e aprimmo la lattina. Dentro c'erano delle bellissime pietre levigate. I semplici sassi che avevamo usato, a forza di strofinarsi l'uno contro l'altro, con un po' di frizione si erano trasformati in bellissime pietre levigate. Mi è sempre rimasto in mente come metafora di una squadra di persone che lavorano su qualcosa che le appassiona. Tutto sta nella squadra, in un gruppo di persone di enorme talento che si scontrano, che discutono, che litigano a volte, che fanno baccano. Lavorando insieme si perfezionano l'un l'altro. E il risultato sono delle splendide pietre levigate.